Questa iniziativa nasce da una vecchia reminiscenza, nonché da un paio di stimoli che mi ha dato la stampa locale e nazionale, fondamentalmente già nel 2012 noi abbiamo fatto, per il sisma, abbiamo organizzato un laboratorio, una ludoteca per un comune della provincia fondamentalmente, perché i ragazzi devono essere qualcosa da fare. Ci siamo ritrovati in questi giorni, più specificatamente domenica scorsa, a vedere sulla stampa locale e nazionale appelli e analisi sul fatto che c'è un digital divide abbastanza importante lato studenti, ANSA per citare qualcuno lo quota al 27%, e ci siamo resi conto che effettivamente non tutti sono smart come la famiglia Canella che è in ITKER può avere o non avere hardware a disposizione e quant'altro, e non tutti quindi possono partecipare alla didattica, quindi viene meno se vogliamo il diritto allo studio, questo citavano anche i sindacati, a Ferrara se non ricordo male, a CGL ha fatto un articolo a riguardo, da cui mi sono rimboccato le maniche e ho detto bene, allora abbiamo fatto un tipo di progetto legato a un certo tipo di attività con un certo tipo di partner, disegniamo il progetto ex novo. Oggi è importante trovare dell'hardware, meglio se trovare, lo dico così, sponsorizzo l'iniziativa, meglio se possibile dei notebook, perché fondamentalmente parliamo di didattica a distanza e quindi vedo mio figlio che ha 8 anni e fanno le videoconference con le maestre, quindi pertanto meglio se notebook, il notebook è anche auspicabile in quanto non tutte le famiglie hanno spazi in casa per poter allestire una postazione PC e che cosa ci mettiamo dietro? Ci mettiamo dietro ovviamente la cura dei dati personali, per cui TK si occupa della sanificazione e distruzione di tutti i dati con i processi di cancellazione e quant'altro, ci mettiamo sopra un'immagine software standard limitata a quello che i ragazzi devono fare, per cui se lo professionista mi dà il PC, è capitato, con i programmi di disegnamento tecnico a bordo ovviamente vanno rimossi e ci preoccupiamo anche della sanificazione fisica, perché non stiamo parlando di 10 anni fa col terremoto, ma oggi di un nemico invisibile che è sinceramente preoccupante. I ferraresi e non solo ferraresi che volessero contribuire a questa iniziativa, che cosa devono fare? Sul Consorzio Factory Grisù, al sito factorygrisù.academy, abbiamo attivato un form da compilare per poter segnalare la propria disponibilità. Il Consorzio Grisù ha messo a disposizione anche un numero telefonico per le domande e le risposte a riguardo 0532 1716651 è il numero da chiamare. Il sito è factorygrisù.academy, c'è una sezione speciale SOS e Learning Coronavirus dove uno appunto può compilare quelli che sono i dati.